Ehm, Chimera, come mai siamo qui? Insomma, non mi pare un bel posto, cioè, senza offesa per questo posto, ma mi sembra più una discarica. Guarda, ci sono cartacce ovunque. Ah, devo mettere in ordine, assolutamente. Mia cara Sunny, siamo qui per uno scopo, e presto lo capirai. Mi spezza il cuore vedere tutto questo inquinamento. Io curerò il mondo, lo so, ma perché buttano tutte le cartacce in mezzo alla strada? Non è giusto, così fanno ammalare il mondo. Ah, piccola Cosmic, la tua missione è curare proprio tutti, eh? Sì, e soprattutto il pianeta. Cosa essere questo dolce suono, dolce melodia? Aspetta, con tessina potrebbe essere pericoloso, non sappiamo chi sia quella. Però, effettivamente, questo suono ha qualcosa di attraente. Yo, essere vecchina! Che bella musica l'hai suonare, signora! Voi dovreste essere rene e con tessina, giusto? Ah, giusto, come fa a conoscere i nostri nomi? Io so tutto sui bambini magici, mie care. Forza, venite a me, bambini con i poteri. Da ogni universo in cui vi troviate, accogliete la richiesta di Chimera e venite qui in questo mondo, abbiamo bisogno di voi. Eh, già, abbiamo bisogno di voi, che ne dite se prima ripuliamo questo posto? Già, è troppo inquinato. Guarda, qui c'è anche una ciotola. Forse qualcuno l'ha lasciata per qualche gatto randaggio. Anche questo mi fa soffrire, i gatti randaggio, gli animaletti randaggi. Guarda, le bricioline terminano qui. Forse sarà meglio portargliela lì dentro. In fondo, qui fuori, la ciotola prende la pioggia. Oh mio Dio, cosa? Che essere è questo? Sembra un batuffolo, una nuvola. Chimera, piccolo problemino, abbiamo dato vita a... Fagottino! Sunny, non combinare guai. Stiamo radunando i bambini magici dei vari universi. Per salvare questo mondo, non ci servono altri animaletti. Ma questo è pucciosetto. Eh già, che dici, lo teniamo? Sembra essere randaggio, senza padroni. Non ha una famiglia. D'accordo, portiamolo all'istituto. Diventerai la nostra mascotte. Oh che bello, abbiamo salvato anche una vita. Sì, ora mi sento felice. Mi raccomando Sunny, prendi la sua ciotola. Ok, ma dovremmo trovargli un nome. Chimera? Il nostro istituto, ossia la tua fondazione, non può avere come base la mia cameretta. Insomma, lo capisci? Già mi sento io di troppo. Non posso portare tutti quanti in camera mia o mi cacceranno. Lascia fare a me, Sunny. Per ora vi sistemerete lì. Eh, fantastico. Andiamo. Venite per di qua, bambine. Eh, ma perché dobbiamo rimanere qui? I nostri genitori si preoccuperanno per noi. Oh, non vi preoccupate, avete una missione più importante. Insomma, qui si tratta di salvare il nostro pianeta. Oh, che bella missione, essere bello. E poi avere sensazione di essere già stata in questo luogo. Ma certo, René, che ci siamo già state. Vedrai, piccolino. Qui con noi starai alla grande. Non ci posso credere cos'è questo suono fastidioso. Sembra la tromba di Chimera. Bernice è sempre a cacare, eh? Sei entrata in casa mia. Cosa pensavi di trovare? Bernice, io e te dobbiamo parlare. Ed era ora, finalmente, da qua. Mi hai rotto con questa tromba. Senti, Bernice, ti vedo un po' agitata. Sicura di stare bene? Certo che non sto bene. Tu hai rapito Sanni, mia figlia, ed ora cosa vuoi da me perché sei a casa mia? Bernice, Suvia, facciamoci una tazza di caffè. Ah, voilà. Ecco, cara baby. Grazie. Ora possiamo discutere delle sorti del mondo. O meglio, della tua ricchezza. Cosa significa della mia ricchezza? Vuoi anche i miei soldi, cessa di una vecchietta? Beh, ecco, sì, sono qui per i tuoi soldi. Ecco, Bernice, io lo so che odi Brenda e Gianni e non ti biasimo. Mio fratello è davvero malvagio, se così possiamo dire. Ma io sono la parte buona della famiglia. Certo, come no, infatti hai rapito dei bambini. Certamente, cara, ti credo proprio. Beccati questa! Bernice, non è il momento di scoreggiare e non sarà una scoreggia a fermare il mio discorso. Tu ti sei licenziata dalla società di Gianni e Brenda. Perciò, al momento, stai cercando di fondare la tua società, la Ben. Come fai a sapere tutte queste cose? Perché io so tutto. Ad ogni modo la Ben non sta decollando, vero? Perché non hai materiale. Materiale per far decollare la società. Già? È esatto. Mi ritrovo al momento in stallo, ok? Ebbene, io ho del materiale per te. La mia società potrebbe fondersi con la tua. E assieme potremmo salvare il mondo. E lottare contro la società di Gianni e Brenda, che chiaramente è una società squallida e malvagia. Interessante! Se si tratta di affondare Gianni e Brenda, io ci sto! Vernice, sei scorreggiata dietro al mobile? E ultimamente ho dei problemi seri. Comunque, io ci sto. Che cosa hai in mente, Chimera? Semplicemente una nuova società, grazie ai tuoi soldi e alle mie risorse magiche. Saremmo imbattibili, indistruttibili. La nostra società sarà la Benines. La Benines? Beh, certo, la tua società, Ben, più Ines, Benines. Era un sì? Oh, ma certo. Brindiamo, Cin Cin Bernice. Questa stanza è molto colorata. Io ho un po' troppo colorata per i miei gussi. Tutto questo fa venire mal di testa a mia piccola testolina vampiresca. Eh, bambine, voi rimanete qui con questo pucciosetto, ok? Insomma, non so ancora quali siano i piani di Chimera, ma ha detto chiaramente di rimanere in camera mia. Io voglio parlare appunto con Chimera e scoprirne di più su questa faccenda. Mi raccomando, rimanete qui. Eh, certo, come no, contaci. Cosa? Che vuoi fare? Ha detto di rimanere qui, non possiamo andarcene. Io faccio ciò che voglio. Sono stata anche arrestata in passato proprio perché faccio ciò che voglio e non mi farò fermare da qualcuno. Qui c'è Roby, è casa sua. E lui è il mio amore. Figuratevi se non vado a trovarlo. Cosa ne è? Allora, che cosa facciamo? Io qui mi annoio. Già, ma tua mamma ha detto che non possiamo uscire in giardino. Dobbiamo giocare qui, in camera vostra. Guarda, Agnese, ti piace la mia macchinina? No, la trovo ripugnante. Ehi là, sorpresa! Beh, cosa sentono le mie orecchie? Questa è una dolce voce. René! Roby! René, cosa ci fai qui? Hai detto che è pericoloso per te. Potresti essere catturata. A quanto pare ho una missione da compiere e... A proteggermi ci penso a Chimera, perciò al momento posso rimanere qui. Sono a fare i suoi. È lei che mi ha chiamata qui ed è lei che mi proteggerà. Oh, mio dolce amore! Allora Chimera è buona! Vuole farci vivere il nostro amore! Devo proprio ringraziarla! Eh, non è proprio così, in realtà ha i suoi scopi, ma... A quanto pare noi possiamo approfittarne. Voi due state assieme? Già, Roby, tu hai la ragazza? Ma certo, e voi lo sapete benissimo, è solo che ve lo siete scordato. Ma non vi preoccupate, René vi farà ricordare ogni cosa. No, fantastico, senti, non è che ci tengo a ricordare il fatto che tu hai la ragazza e io no? Sbattimelo in faccia un'altra volta! Ma come, Bernie? Io posso essere la tua ragazza? Non ricordi? Oh, Agnese, senza offesa, ma... Sono ancora alla ricerca del vero amore e non mi fermerò finché non lo troverò. Ma come, l'altro giorno, Tristo, non ti ha creato la tua ragazza ideale? Non lo so, c'è qualcosa di strano. E... è successo tutto così in fretta. No, non è stato Tristo a creare la tua ragazza ideale. È Chimera, sta radunando un sacco di bambini e stanno comparendo un po' ovunque in questa città. Con la sua tromba li sta richiamando a sé. Anch'io sono stata tratta qui, in questo universo, dalla tromba di Chimera, da quel suono, da quella melodia. E un po' tutti ci stiamo radunando, perciò non è stato Tristo a creare la tua ragazza. Ma è stata Chimera, ci sta radunando tutti quanti. E quindi lo dicevo, sono senza ragazza, quella non è la mia ragazza ideale, oh no! Kai, è stato davvero bello da parte tua organizzare un picnic solo per noi. Brian, ce lo meritiamo dopo tutto quello che abbiamo passato. Insomma, la tua gelosia nei miei confronti era del tutto immotivata. Perché io non sono mai stata innamorata di Kevin, neanche l'ho mai conosciuto praticamente. Figuriamoci. Già, Sky, scusami se ho dubitato di te. Mi sembrava strana tutta quella storia. Ma ora siamo qui e ci godiamo il picnic. E oltretutto, ho detto ai bambini di non uscire di casa. Rimarranno in camera loro, così non ci disturberanno. E possiamo passare la giornata noi due soli soletti in giardino. I bambini non possono uscire dalla loro camera. Esatto, Brian, l'ho fatto per noi. Abbiamo finalmente una giornata solo per noi. Ed ora scusami, Bernice, ma devo continuare il reclutamento. Reclutamento di che? Dei nostri piccoli guerrieri. È da qui che proviene la musica. Wow, un picnic. Che bello, un picnic. Guarda, dei panini. Ma Benny e Bernie non ci hanno invitati al loro picnic segreto. Già, non ci hanno invitati. E bambini, che cosa ci fate nel nostro giardino? Già, volete giocare a palla? Sì, io sì, lancia Brian. Brian, Brian, questo è il nostro picnic segreto romantico. Ho lasciato i bambini chiusi in camera a loro ed ora spuntano altri bambini. Beh, dai che ci divertiamo. Sì, Brian, lancia. Cosa? Ma che cosa ci fa la piccola cessa in giardino? Guardate, ci sono tutti. Perché la mamma ci ha tenuti chiusi in camera? Sono tutti in giardino. Stanno facendo tutti un picnic senza di noi. Mamma, mamma, crudelissima mamma. Che bella musica. Suoni davvero bene, chimera. Mamma, come hai potuto organizzare un picnic con altri bambini senza di noi? No, il mio picnic romantico è rovinato. Vabbè, bambini. Sorpresa. Questo è un picnic a sorpresa. Mamma, che bella sorpresa ci hai fatto. È proprio un bel picnic. Oh, lo sapevo che vi sarebbe piaciuto. Ed ora mangiate e giocate. Mamma, wow, sei grande. Hai organizzato tutto questo per noi. Ed io che ero geloso, pensavo volessi stare con gli altri bambini e non con i tuoi. Ma no, sciocchino.